C'è un pacco per te. Ah, guarda, questo qua è il logo della ditta degli spaghetti che abbiamo mangiato ieri sera. Vediamo cosa c'è dentro. Se questa semola potesse parlare. Ah, c'è una lettera. Grazie. 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 Intellettuale, saggista, ma soprattutto contadino. È la storia del suo sogno, restituire dignità alla terra e ai suoi guardiani, i contadini appunto. Come il grano, anche un'idea all'inizio non è che un seme e l'idea di Gino era quella di ridare vita a una collina, questa collina, dove lui ha scelto di piantare il seme della sua idea, produrre e trasformare il grano in pasta in un unico luogo. Quando nel 2012 abbiamo perso Gino, abbiamo fatto di tutto perché non andasse perso anche il suo sogno e dopo 40 anni, tante cambiali agricole, debiti, sacrifici, quel sogno adesso lo tieni tra le mani. Per realizzarlo abbiamo messo insieme quasi 300 agricoltori e costruito un pastificio che oggi si avvale delle più moderne tecnologie, pur nel rispetto totale dei tempi lenti e dei nutrienti del grano. Anno dopo anno abbiamo imparato a fare la pasta. La prima, integrale senza attenuanti, raschiava la gola e nonostante questo c'era chi continuava a comprarla perché credeva nel progetto. In quell'idea un po' romantica di valorizzare il territorio, il mondo rurale e di alimentare un'economia realmente sostenibile. Prima mandavamo a macinare il nostro grano in altri molini, oggi non più. Questa è la prima semola ottenuta dal nostro molino. È la realizzazione del sogno di Gino che noi abbiamo fatto nostro trasformando quel seme di idea in un grano e ora in semola, questa semola. La vogliamo condividere con te perché a volte si fanno sogni così grandi che bisogna dividerli con qualcuno. Questa è un'edizione limitata e molto speciale e non è in commercio. È stata realizzata esclusivamente per l'avvio del molino e per celebrare con amici e clienti un avvenimento straordinario per la nostra storia. Quella che oggi è una piccola celebrazione presto diventerà una grande festa alla quale non puoi assolutamente mancare. Ci piace pensare che, se questo pacco potesse parlare, direbbe «Ragazzi, ce l'abbiamo fatta!» Il presidente della cooperativa Gianni Battista Girolomoni Poscritto Ti rubiamo ancora un paio di righe per due ringraziamenti a cui teniamo particolarmente. La cooperativa La Sorgente, che ci ha aiutati a confezionare, e Gisella La Terza, meravigliosa autrice della filastrocca che trovi nel pacco. Buonanotte, piccolo seme, fa sogni d'oro ed argento sotto la neve. In autunno, nei campi più belli, ti abbiamo seminati con i tuoi fratelli. Ora che è inverno, dormi felice. È un segreto che nessuno ti dice. In primavera, dalla terra che ti accoglie, ti rivestirai circondato da foglie. In estate, cullato da una fresca brezza, sarai spiga d'oro che il sole accarezza. Sarai raccolto e portato al molino. E in questo luogo, mio chicco bambino, cambierai ancora, come ogni cosa. Ti trasformerai in farina setosa. Ogni passo della tua storia è sulla collina che ha lunga memoria. All'ombra tranquilla del monastero c'è la tua casa e il tuo sentiero. E qui, con un po' d'acqua e fantasia, diventerai spaghetti o maccheroni e sarai pronto per andare via. Questa storia non finisce, tuttavia. Il tempo è un gatto che corre in tondo e nel silenzio delle stagioni rincorre la coda in un girotondo. Grazie. 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 Grazie.